Inizia il podcast di Pinocchio, tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. 17.06, com'è che finisce? Eh, così! Lo fanno apposta così? Dai, dai! Mamma, ha ritrovato il flautino. Eh, lo so. Ieri qualcuno l'aveva fatto sparire. Eh, sì. Dai, quindi siamo pronti. Io l'avevo nascosto sotto sua. Ah, l'avevi nascosto tu? Eh, sì, l'aveva nascosto per non farglielo più trovare, ma l'ho ritrovato. Me l'ha chiesto lui di farglielo sparire. Sì, perché se no l'avrei suonato tutto il tempo. Quanti adesso te lo ridò, poi. Cioè, lo suono per la sigla, poi lo metti via di nuovo. Dai, sigla. Allontanati i cani. In auto, dentro il pelo, oppure sopra un tram, cuffiette nelle orecchie, si ritorna alla maison. Andiamo a cena, restiamo a bella bar, la sera è cominciata, chiudiamo la giornata. E' il tempo di iniziare questo carissimo, sorrentissimo, squisichissimo, scioglio in occhio. Buonasera Diego, buonasera Valentina, buonasera Ciocca e buonasera Verigei. Allora ragazzi, entusiasmo. È un mercoledì, è giornata collinetta, si sta svalicando verso di là. Allora no, stasera abbiamo un ospite, verrà a trovarci Laura e Mai Messina, con questa snocciola libri. E' che ogni volta è un parto, ogni volta è una cova, una roba... Poi ogni volta è una cosa diversa, perché delle volte sono dei romanzi pazzeschi, questo è un libro ancora diverso. Ancora diverso, questi sono i suoi, tanto siamo amiche. Ci sta sentendo. Sono i suoi strippi. Dove io casco con tutte le scarpe, ma proprio una roba... Guarda come ride. E' da perdere la testa. Perché è un po' perverso, un po' perversione. No, ci caschi dentro, sei fregato. Ci caschi dentro, si chiama Il Giappone a colori. E' un... Guarda, non è neanche facile da spiegare, ma siccome l'ha scritto adesso ce lo spiega. No, perché io voglio capire da dove è partita. E sono sicura, perché poi leggendo tra le... ho trovato la pagina dove dice, è questa roba qui che mi ha fregato. Eh, è. Una roba che non si capisce. Allora dove non si capisce, lei... Si incaponisce. Mamma mia. Dove non si capisce. E allora lì, studia una montagna di roba. Sì. La rimette tutta in ordine. E' come se prendesse una matassa di mille rotolini di fili sottilissimi diversi. Sì. E con calma la sdipana. Una roba, alla fine poi stai da Dio. Ma il bello è che lo fa lei. Tu ti ritrovi i gomitoli a posto. Che bello. Quindi, il Giappone ha colori, ne parliamo con lei. Vi chiedo già di partecipare. Perché? Perché relativamente al modo che ha scelto lei di raccontare dei colori, secondo me potete raccontarci i vostri di colori speciali. Quelli ai quali avete dato voi un nome. Quelli che vi ricordano qualcosa di speciale, legato a delle emozioni, legato a degli oggetti a cui siete particolarmente legati. I colori della vostra vita. 347-342-5220. E poi, ragazzi, di nuovo negli anni Ottanta con una boy band. Stasera tocca ai bross. E vabbè. Ma bentornati. Ma in che forma erano? Eh sì. Erano simpatici. Pinocchio è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. No, vabbè, ragazzi. Un entusiasmo per i bross fuori controllo. Davvero? Era tanto, eh. Era tanto. Quindi sentivano. Che gioia. E accolti con un entusiasmo incredibile. Molto bello. Devo dire che con entusiasmo e anche un po' di timore, i nostri ascoltatori e ascoltatrici più fedeli, che conoscono quelli che sono i personaggi che puntualmente tornano a trovarci, allo scoprire che c'è Laura e Mai Messina, ospite a Pinocchio, hanno detto, ecco, mi tocca prendere il fazzoletto, adesso ci si commuove. Bentornata, Laura. Grazie. Non è vero, stasera non ci si commuove, ci si emoziona, però. Questo sì. Perché? Allora, la Laura ci porta. Intanto sono arrivati dei messaggi deliziosi. Sì, sì, vi faccio sentire. Beh. Il colore per me è importantissimo, è il colore del ciclamino. Il ciclamino di montagna, che mi ricorda tantissimo mio papà, che ho perso all'età di sei anni, quindi con papà andavo sempre in montagna. E quando sento il profumo del ciclamino, vedo il colore del ciclamino, il pensiero va sempre a lui. Beh, è molto bello. E il nero. E tutte le sfumature di grigio che le accompagnano possono essere di una potenza incredibile. Ma te, cara Federica, hai già anticipato il tema del libro. Stai già, non star neanche a sentire la puntata e esci a comprare il libro, perché è proprio quei colori lì che tratta. Qualcuno dice anche il mio colore è l'arancione della tazza dove bebevo il latte alla materna. Ecco, secondo me qui cominciamo a entrare ancora più vicino a come la Laura ha voluto trattare, in il Giappone a colori, il tema dei colori. Perché il fatto di fare delle distinzioni che complicano tutto è proprio un modo risolutivo giapponese che alla fine, dopo un gran casino, ti senti molto in ordine. E' vero, no, no, ma sono d'accordo. Ad esempio è un po' come tradurre letteralmente qualcosa che scivola. Molti dei nostri, ad esempio, fare due passi. Quando ad esempio ne parlo ai miei studenti giapponesi nelle aule dell'università, contare il fatto che siano proprio due, farli concentrare sul fatto che siano due, ti assicuro che dà proprio una visione diversa. È come l'etimologia delle parole, discoteca. Cioè, devi andare nell'antica Grecia per riuscire a spiegare questa parola. E quindi prendere un colore giapponese, come, che ne so, il piume bagnate di corvo, ecco, quel nero lì lucido, quel nero che cambia, ti fa vedere il mondo in una maniera diversa. Sono le parole che poi in traduzione... Te lo fa guardare. Esatto, ti ferma lo sguardo, lì dove scivolerebbe, solo nero, solo bianco. Però, vedi, noi abbiamo un approccio razionale che classifica i colori addirittura con dei codici, no? Perché sia riproducibile... Ah, tu parli, per esempio, i pantoni. I pantoni, che va benissimo, però invece... Ma io credo che la definizione... Da quello che io ho letto fin qui del libro, che mi ha ovviamente rapito, poi c'è tanto lavoro della Laura che è ossessionata e psicopatica, lo sapete, dalle etimologie, da tutto ciò che in giapponese poi sono kanji, quindi sono i diogrammi che compongono una cosa, dentro i quali poi, come scatoline, ci sono delle altre cose. Se devo fare una distinzione iniziale, per orientarci un pochino, è che il modo giapponese di guardare i colori è un modo di un osservatore, quasi privo di emozione, critico, cioè molto capace però di essere dettagliato. Quindi, guarda, una cosa la osserva a lungo e la descrive minuziosamente. Il nostro modo di percepire i colori è più emotivo, la tazza della scuola materna, quindi meno descrittivo più che riguarda le nostre emozioni. Il bello è che in realtà ha fatto un libro dove io che la conosco so che c'ha, il degli organi ce li ha rimessi sicuramente perché è un lavoro massacrante su tre colori, il grigio, il bianco e il nero. Ma in realtà doveva essere molto di più, soltanto che a gennaio di quest'anno ho alzato le mani, ho detto o ristringiamo proprio perché volevo parlare di tanti bianchi perché effettivamente è uno di quei libri che, come ho scritto nell'introduzione, puoi finire solo se ammetti la possibilità di non finirlo. Cioè, nella mia testa ci saranno anche altri colori. Un'enciclopedia. Un'enciclopedia, non lo so, un cofanetto. E' che è molto divertente. Ed è molto divertente. Questo è che uno dice ma che tema è? E' un tema che ti fa guardare, cioè tu lo leggi, io ne ho letto per esempio oggi un pezzo dal parrucchiere e dopodiché comunque ti modifica il modo di guardare ciò che è intorno. E questa è un'esperienza super divertente. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 17.32 Radio DJ, ospite a Pinocchio, Laura Imai Messina che per Enaudi porta il nuovo libro che si chiama Il Giappone a colori. Allora, da una parte c'è il fatto che Laura vive in Giappone da tanti anni e si è appassionata da persona curiosa, da scrittrice, da interessata alle parole, anzi ossessionata dalle parole. Me lo concedi Laura? Sì, sì, sono ossessionata. Mi fermo sempre proprio per... Non riesco neanche a finire quasi i libri, perché di frase in frase, di rigo in rigo, mi fermo. Sarebbe infatti curioso sapere cosa leggi. Tutto! Tutto! Leggo tutto contemporaneamente ma a pezzi. Sì, 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 ti vedo, eh. Mi vedi, mi dispiace. Lei in Giappone osserva gli osservatori per l'eccellenza i giapponesi che sono continuamente a guardare, a guardare, a descrivere, a trovare una collocazione per tutte le cose. E in questo senso io la capisco tanto, perché anche su di me il Giappone ha un effetto calmante. Cioè, il fatto che c'è sempre un fatto apposta, c'è sempre una bustina che ti contiene perfettamente, una piccola copertina, un fatto apposta. E il mondo dei colori improvvisamente si è rivelato a lei creandole anche non poca confusione. E cioè, in giapponese esistono delle parole che descrivono dei colori specifici. Quindi sotto il grande cappello ne ha scelto tre colori per cominciare. E comunque, credetemi, è viva per miracolo. Sono viva, ma veramente, davvero. Cioè, se noi pensiamo ai sette colori che possiamo sapere a memoria, quelli classici che impari da piccolo dell'arcobaleno, solo di possibilità di nero, bianco e grigio... C'è un libro che è spessone, eh? È spessone. Sì, dentro a questo libro ce ne sono un centinaio. Bianchi, ad esempio, ecco, basta... Ricordo, ad esempio, quando ho indossato il kimono da sposa e questo kimono è completamente bianco, lo shiromoku. E io ricordo l'esatta sensazione, aprendo, alzando il braccio, quindi con tutta la manica, guardando questa manica. Sembra una pazza, ma in effetti sono una pazza, hai ragione. Esatto. Io ricordo che mi accorse in quel momento di quanti bianchi si succedevano su una stessa manica e da lì, se vuoi, è partita una grande suggestione sul fatto che ci sono le cose, ma noi le vediamo solo quando le chiamiamo, quando hanno un nome. Certo, cioè, bianco, ok, ma se devi poi cominciare a guardare, a osservare, hai bisogno di bianco come? Come bianco associato a delle altre cose. Adesso, entrando nel bianco, c'è il biancolatte, buccia di uovo, biancopallore, bianco ventre del pesce. Certo. Eh, come no. E poi c'è la neve. Hai detto neve? In giapponese ci sono 20 stagioni solo all'interno dell'inverno e quindi tutte legate a momenti specifici di una stagione, perché poi le stagioni sono un grande specchio dei colori. Sono forse il primo riferimento in genere della cultura giapponese, quindi i giapponesi tendono, quando anche parlano della bellezza, quando parlano dell'amore, quando parlano di qualunque altro sentimento, guardano la natura, cercano un riferimento, lo inseriscono negli haiku, lo inseriscono, ad esempio, nelle fantasie dei kimono, lo inseriscono nelle parole, lo inseriscono nei canti, lo inseriscono nella letteratura, nella moda, ovunque. Ma infatti leggevo che il cambiamento climatico sta mandando in sbattimento i poeti giapponesi. Va bene, ma stai scherzando. Comunque, sempre nel bianco c'è anche il color profumo. Puoi non essere pazzo di questo libro, Giappone a colori, trovate tutto su Pinocchio DJ. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 17.40, Radio DJ, Anche questa è comunque una vita che non la sentivamo. Vero, è vero. Tanti ricordi, tanti colori. Sì, anche di questo, è vero. Il Giappone a colori è il nuovo libro di Laura Imai Messina, è venuto a portarcelo e abbiamo chiesto agli ascoltatori di descriverci i colori ai quali hanno potuto a un certo punto dare un nome o comunque avvicinarli a qualcosa che rendesse quel colore anziché semplicemente un numero, come diceva giustamente Diego, quando si parla per esempio di pantoni o riferimenti numerici, esatto, ma i colori legati alla propria emotività, alla propria esperienza. Qualcuno parla di grigio e bianco, ma quelli del gabbiano che mi viene a trovare ogni giorno alla finestra, comparso in pandemia quando era piccolino e mi ha tenuto compagnia, ora torna e mi porta conchiglie, la fidanzata e quant'altro. Ci ha anche mandato una foto ragazzi. Ancora un grigio Laura, non perché dice sia il colore che amo, ma perché una volta per le situazioni che erano bianche o nere, cioè tutto o niente, e poi col tempo ho capito che esiste il grigio. Ma diventa poi una sensazione interiore il colore? Eh sì, certo. I colori che mi ricordano la mia infanzia, il marrone come l'autunno e la mia prima cartella da scuola in pelle marrone, con sopra disegnato un bassotto tutto nero e poi il bianco come la neve che a quell'epoca, in questo periodo, scendeva già copiosa. Ragazzi siete stupendi, eh? C'è anche una definizione di un colore indefinito da parte di una regione, la Calabria. In occhi, non so se vi può essere utile, ma non è esattamente un colore, ma qui in Calabria, soprattutto a Cosenza, quando qualcosa ha un colore non definito, diciamo color gattafuine, ovvero il colore di un gatto che corre, che scappa via. Ragazzi. Esiste anche quello del cane che corre, a seconda della regione mi hanno spiegato che esiste anche il cane che corre. Qualcosa che corre non si vede, quindi... Sì, lo intuisci, hai come la sensazione... Ma non ne sei sicura. Non lo possiedi, non lo possiedi. Rosa coppetta fragole limone. Viola, qualcuno dice, la Simo anzi, dice, non esiste altro colore al di là del viola, sono ossessionata. Il rosso un po' sbiadito del mitico dolce forno. Il giallo limone delle giornate frizzanti e spensierate, il giallo che ti riempie gli occhi e ti fa sorridere il cuore, firmato una fede che abita lì dove, dopo la finestra, l'aria ride di giallo. Eh, vabbè. Che meraviglia. Una poetessa proprio. Ma la bellezza vostra, qualcuno dice, quando ero ragazzina avevo bisogno di sentirmi al sicuro e anche un po' di nascondermi e il mio colore era il blu. Quando finita l'università ho visto la mia strada e l'ho seguita, avevo tutto turchese nell'armadio, come in un'eterna giornata al mare. Quando ho trovato l'amore della mia vita, sono sbocciati tutti gli altri colori che ora uso pazzamente e senza criterio. Ragazzi, avete capito perfettamente e non potete che godere come dei pazzi del libro della Laura Imai Messina. Si chiama Il Giappone a colori e trovate tutte le indicazioni su Pinocchio DJ. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 17.47 Radio DJ. Questa cosa dei colori sta scatenando un sacco di conversazioni. Il Giappone a colori di Laura Imai Messina è il libro nuovo di Laura che si è presa proprio il disturbo perché oltre che essere disturbata si è disturbata. Scusa, avendo il disturbo lo ha preso poi. Lo regala a noi. Però curato, mi cura e ve lo regala. Esatto, no, perché lei prende delle sfide tipo appunto attraverso le parole si danno i nomi alle cose e a quel punto essendo lei una bambina piccola le cose esistono come per magia e quindi le vede davanti a sé te le racconta e allora poi non esistono solo per lei e come in tutti in tutti i suoi libri ti fa partecipe di un mondo che è il suo che ha scoperto e che ama condividere perché poi dà sola paura di starci in quei mondi. È probabile, probabile. Però ci tira sempre in mezzo e devo dire che ogni volta che è venuta a portarci un libro la gente si è tanto divertita e anche questo propone un gioco divertente che è quello di ad ogni colore quindi lei ne ha affrontati tre ed è un libro alto almeno 5 centimetri quante sono? Quattro? Più di 300 pagine. In ogni caso è il gioco che propone questo libro per cui io adesso vi do delle suggestioni però nel grigio c'è il color erba della dimenticanza che è affascinatissimo Forse effettivamente è uno dei miei preferiti perché il colore erba della dimenticanza non è proprio un grigio però si ricollega al grigio lama smussata che era il colore che veniva usato ad esempio per le vesti delle persone che stavano affrontando un lutto e quanto più era denso quel colore quanto più significava che si aveva una relazione con il defunto ma l'erba della dimenticanza serviva per il momento successivo quando si affrontava quello che i giapponesi chiamavano il lutto del cuore e era un arancio il cui pigmento veniva ricavato da un'erba l'erba della dimenticanza e si credeva e si sperava perché è sempre una speranza ma è una certezza che indossando una veste di quel colore si potesse lenire il distacco la sofferenza e quindi dimenticare ma non dimenticare come dire allontanando del tutto dimenticare la sofferenza non la persona e non so se state guardando visualizzando anche voi un grigio lama smussata accanto a un arancio erba della dimenticanza ed è elegante domani vieni in radio così c'è un colore di cui mi sento molto vestita ora che è quello dell'erba della dimenticanza ma che mi piacerebbe anche però abbinare a un color vaghezza color vaghezza color vaghezza ragazzi c'è anche ho trovato mi sembra di averlo davanti agli occhi è il bokeiro bokeiro vuol dire disfarsi è un marroncino chiaro ad esempio scusa lo trovi nelle lettere antiche quel marrone non chiaro i giapponesi hanno finito per chiamare bokeiro quindi color vaghezza tutte le cose che non hanno un accento definito di qualunque tinta non è sicuro e anche quello ragazzi è impressionantemente elegante il binocchio è anche in podcast on demand dove vuoi quando vuoi 18 e 0 7 radio dj ehi ragazzi sarà che c'è ospite laura e mai messina che ci ha portato il nuovo libro si chiama il giappone a colori sarà che ormai siete abituati a esprimervi attraverso la nostra coordinata il 347 342 5220 ma il tema di stasera che sono i colori della vostra del vostro cuore i colori che in qualche modo vi accendono dei ricordi delle emozioni per cui un rosso detto così si può voler dire poco ma se come diceva prima un'ascoltatrice il rosso scolorito del dolce forno è tutta un'altra cosa ed è su questa emotività e su questo gioco con le parole che Laura in questo libro veramente ci dà l'opportunità di riosservare fuori i libri della Laura spesso hanno degli strascichi poi nella vita tu li leggi e dopo averli letti ti accorgi di essere un po' cambiato non è che cambi tu come persona però ti accorgi di delle cose diverse in questo libro secondo me più che mai perché c'è tutta un'analisi in realtà di tre colori il grigio il bianco il nero ma attraverso questo gioco poi tu lo fai con tutto e quindi dai dei nomi e delle parole ai colori che cambiano attraverso le esperienze personali e questo rende quella sfumatura specifica che è di una persona capibile da tutti perché tutti il ventre il bianco ventre di pesce tutti si fanno un'immagine e se non ce l'hai ben chiaro ti viene voglia di vederla e quindi questa secondo me è la magia allora adesso vi faccio un gioco che è arrivato da un'ascoltatrice che è un gioco secondo me super divertente quindi tenetevi pronti dovete essere molto veloci Laura, Diego e Vale ok ce lo scrive Elena che dice io e mia figlia facevamo un gioco quando era piccola e me lo chiedeva sempre lei diamo un colore ai giorni della settimana perché per ognuno sono diversi ok lunedì giallo rosso melograno bianco martedì rosso verde oliva rosso anch'io guarda che poi ognuno serio eh certo mercoledì verde carota azzurro cielo già lei però dice azzurro cielo beh Diego è stato più bravo prima cioè hai detto carota rosso melograno quel rosso lì rubino rubino ok giovedì blu cachi giallo limone venerdì rosa tenue pastello latte menta verde erba quella nuova germoglio proprio sabato sabato è un azzurro per quanto mi riguarda indaco per me è un rosa abbastanza intenso domenica bianco secca proprio ma in realtà anch'io devo dire bianco oro però chissà sa che fare con la messa non lo so può essere un rimando un rimando ci potrebbe essere la domenica è nero per me c'è proprio zero e poi colore della porporina qualcuno dice quando si facevano i lavoretti di natale a scuola e allora si che il natale era davvero magico amore non siate così ma no anche perché il 28 di novembre cominciamo a farli anche noi i lavoretti il carro sta arrivando eh si il carro sta arrivando questo è il podcast di Pinocchio lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi quando vuoi molto amato Sil eh molto amato Sil dagli ascoltatori di Pinocchio anche da noi che comunque stiamo sempre dalla sua parte vero? sì madonna certo salutiamo Eddie Clam no io no io saluto lui io saluto solo Sil tu perché speri sempre di essere invitata alle sue feste di Halloween ma niente vale tanto non ti invita non ti invita allora noi invece siamo invitati a Il Giappone a colori il nuovo libro di Laura e Mai Messina eh dove per esempio sotto la voce nero c'è cedro nero color nero braccia spenta che è secondo me bellissimo il nero cecità che è assoluto sì e per esempio nel libro c'è una parte molto che mi è piaciuta tanto che è i colori e il cibo cioè di come siamo abituati a percepire già il sapore dal colore di come alcuni colori il nero di seppia per esempio non è per tutti per mangiare qualcosa di nero e pare che per esempio le cose blu non si mangino cioè fai molta fatica a digerirla se non sei molto aperto mentalmente nel senso che non è una questione ti sembra artefatta quindi ti allontana un po' invece ad esempio i giapponesi avevano l'idea di ingoiare cibi neri per rinforzare il corpo ad esempio c'è un giorno dell'anno ancora oggi in cui c'è il diciamo la tradizione di mangiare l'anguilla tutti giochi di parole però era ingoiare il nero per rinforzare il corpo oppure c'è ad esempio il color cottura a fuoco lento anche questo è legato da perdere la testa da perdere la testa questo è veramente da perdere la testa infatti l'ho segnato cottura a fuoco lento poi c'è tutta una parte del libro meravigliosa sui colori delle ombre perché anche lì le ombre anche ora esatto la sovrapposizione dei neri e dei grigi cioè non è solo un colore è come se fosse a strati ti fa vedere il colore come non so una specie di sfoglia ecco certo e la Marianna che ci scrive dice c'è poi un tono di verde argentato argentato tenue ma luminosissimo è il colore delle foglie di fico illuminate dalla luna piena nelle notti a vulcano ma che brava eh sì lo capisco a proposito di questo nel libro c'è un momento meraviglioso in cui Laura disvela la sua scoperta di una modo di guardare che è tutti verdi del retro di tutte le foglie che è sì che è proprio sì gli ulivi gli ulivi sono questo perché gli ulivi hanno sempre mostrano una mezza faccia del retro delle foglie ed è ed è speciale effettivamente a seconda di come cambia la luce cambia tutto per questo vi dico che questo libro è un libro che dovete leggere se siete disposti ad aprire un po' un terzo occhio perché più lo leggi e più ti divertirai da morire a guardare nel maglione della signora seduta nel tram di fianco a voi o nelle confezioni del supermercato ma nelle sali d'attesa quanto funziona ad esempio anche con i bambini quando dovevano aspettare in treno per non so o dei viaggi abbastanza lunghi per loro cercare il colore questo è un consiglio a tutti i genitori dell'ascolto davvero e questo libro vi insegna a raccontarlo in maniera super divertente Pinocchio è anche in podcast on demand dove vuoi quando vuoi 18 e 32 minuti in radio DJ allora oggi abbiamo questo libro meraviglioso che si chiama Il Giappone a colori di Laura Emae Messina un insider di Pinocchio ormai e parliamo di come i colori una volta descritti dopo la parola del colore per esempio rosso e poi qualcosa ti aprono completamente un altro mondo e stiamo chiedendo ascoltatori e ascoltatrici di raccontarci i propri colori del cuore quali sono i colori che li emozionano che gli fanno venire dei ricordi eccetera questo si è capito anche dai messaggi che state mandando è un qualcosa che i bambini sono molto più bravi di noi a fare perché più liberi da alcuni limiti dell'immaginazione per cui abbiamo pensato subito nello specifico la vale più di tutti a Frida una nostra ascoltatrice molto attenta molto sensibile molto interessante che ci fa piacere presentarti Laura Frida ci sei? Sì ciao 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 ben trovata come va? grazie tutto bene? sì bene noi parliamo di colori stasera so che tu poi a scuola ci lavori anche molto quei colori abbastanza hai dei colori preferiti vuoi raccontarci un po' sinceramente di preferito diciamo che ho poco perché non ho tante preferenze mi piacciono tanti va va momenti e poi ne ho tanti di preferiti per esempio uno che ultimamente mi piace molto è il grigio ecco o il blu carta da zucchero ecco vedi blu carta da zucchero che sto usando a scuola per fare l'uncinetto visto che volevo una cosa tendente al grigio la maestra mi ha dato il blu carta da zucchero perché possiamo spiegare metti che qualcuno Frida non sa bene com'è è quello che una volta si usava per gli involucri dello zucchero bravissima ed è simile al grigio sì però un po' verso il blu cos'è che ti piace del grigio a te Frida riesci a raccontarmelo? ma diciamo che mi piace molto come tonalità il colore di base e poi ci sono dei colori che quando li vedi ti fanno venire dei ricordi? fammi ci pensare un attimo allora forse forse ma se proprio adesso mi fai vedere il blu magari sì o un viola sì mi viene in mente una cosa che abbiamo fatto a scuola ok per esempio che cosa è? abbiamo fatto abbiamo iniziato geografia abbiamo iniziato componente levante mezzanotte e mezzogiorno ok componente levante hanno questi colori uno è viola e giallo l'altro è blu e viola ok ok e quindi quando li vedi ti fa ricordare questa cosa? non lo so perché adesso non ci sto pensando stavo facendo i compiti certo però diciamo che potrebbe farmi ricordare perché l'abbiamo fatto proprio oggi allora proviamo a fare questa cosa qua se io ti dico un'emozione tu mi dici un colore tipo l'allegria che colore è? giallo vedi la fame? la fame? la fame forse potrebbe essere il bianco ah bello e il 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 sonno? il sonno il o il porpora o il ciclamino oh che bello che bel sonno è interessante hai delle altre emozioni da sottoporre per dargli un colore Laura? io sono impressionata della Frida eh lo so perché la Frida noi siamo abituati ma è no io non ero abituata la paura Frida che colore è? la paura diciamo che non ha un colore secondo me perché ma poi diciamo che ho provato a dirti non certo ma no ma non ne sono sicura è un gioco è quello che hai detto fin dall'inizio che non hai dei colori preferiti va a momenti magari fra un'ora o domani un'altra risposta no infatti è questo noi di sicurezza non ci interessa niente di averne era bello proprio questo gioco di improvvisazione anzi ti invito a farlo cioè ogni tanto provare a pensarci perché è bello vederli anche cambiare questi colori capito? ok senti ti abbracciamo forte speriamo di sentirci presto va bene ok ti posso dire una cosa a Diego? sì certo mi è arrivato un libro oh che gioia non sono riuscita però a iniziarlo subito perché adesso il maestro ci ha dato dei libri da leggere entro un mese quindi ho dovuto leggere quelli della scuola Frida è un regalo dei regali uno fa quello che vuole quando avrai voglia è vero l'ho iniziato bene grazie l'ho iniziato un po' amorosa sembra bello speriamo 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 è battaglia del posto senza nome sentiamoci presto eh Frida ok ok un bacione ciao ciao stai ascoltando il podcast di Pinocchio 18.41 Radio DJ la Joe ha scritto subito Tracy Chapman per sempre blu eh sai che anch'io ho un blu scuro blu notte si Diego allora a me veniva in mente il colore del bambù che ho sul terrazzo ma quando il vetro è bagnato perché piove eh Laura Tracy Chapman coligine direi color foligine bello color foligine molto molto bello è presente per me è un blu con è un gessato nero ok cioè un blu con il con la gessata con le righe nere si capito cioè non so se vabbè comunque allora perché parliamo di colori perché è uscito il Giappone a colori è l'ultimo sforzo di Laura Imae Messina perché i suoi libri sono sforzi abbiamo detto in apertura lei viene travolta da un tema non lo va mai seduta non lo va a cercare è un incidente e lei purtroppo ha un incidente con un tema anche martire cioè lo subisce no lei ha un incidente con un tema perché lei non lo vorrebbe affrontare ma gli si presenta nella vita parte soffrendone amaramente dice no non è fattibile ed è proprio lì quando il giorno dopo che ha detto non è fattibile che gli parte un intestardimento ma perché è così terribilmente bello che lo voglio far conoscere a tutti è lì che mi frega è che se se bastasse soltanto saperlo mi fermerei lì sai cos'è sei troppo buona no no sto ridendo no è una mia amica vi assicuro non sono buona perfida Utsubushi Utsubushi questo è stato un po' la cosa che ha scatenato il libro il tema il fatto di affrontare i colori di che stiamo parlando? ad esempio stiamo parlando io già immagino il risultato cioè del annerirsi i denti delle donne giapponesi era proprio un codice estetico completamente diverso per cui tutte le mattine le donne giapponesi fino praticamente al dopoguerra creavano con una ricetta che si portavano di famiglia in famiglia ad esempio anche di non so suocere in nuora una ricetta per annerire i denti per cui la dentatura le irregolarità della dentatura sparivano quindi effettivamente l'effetto estetico c'era per di più aveva anche degli effetti diciamo contro la carie faceva bene dopodiché ecco questa dentatura questo ogni mattina a mettere con un pennellino tra l'altro questo nero disgustosissimo reso più buono in tutti i modi possibili sempre attraverso la conoscenza di generazioni mi ha aperto effettivamente un mondo cioè di una cosa che a noi sembra completamente fuori dal mondo fuori dal mondo è ben lì che lei poi si inventa un libro come questo che è veramente divertente perché via via che lo leggi ogni volta che chiudi la copertina e ti guardi intorno ti si apre un nuovo mondo che è quello di cercare di dare un nome ai colori ed è molto 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 divertente stai ascoltando il podcast di Pinocchio 18 e 46 Radio DJ il Giappone a colori è il nuovo libro di Laura M. Messina trovate il link su Pinocchio DJ vi leggo dei messaggi che sono arrivati a proposito di colori e emotività nero il colore che mi ha avvolta da quando lui non c'è più nero il giorno che è andato via senza poter abbracciare nessuno giallo quando tra la gente un sorriso uno sguardo ritorna come lui belli ciao bello bellissimo bello il mio colore di oggi è bianco lago di nebbia quando a novembre la nebbia occupa tutta la vallata e da casa mia si vedono solo le montagne come stamattina ma che bello veramente nella mia identità cromatica ad esempio c'è un rosso molto acceso quasi allarmante beh è il colore del logo della Kodak della macchinetta usegetta che mio padre utilizzò per farmi la foto del mio primo giorno all'asilo in divisa avevo quattro anni bellissimo perché l'occhio poi cioè in un'immagine in quella giornata tu puoi vedere tante cose invece vedi il logo rosso della macchina fotografica nei ricordi si spiagiscono magari tutti gli altri colori ma quello eh quello rimane come un punto luce solo su una cosa specifica e più è specifico più lo ricordi sì e invece a proposito di eh gatto che corre qualcuno dice in Sardegna si dice colore di cane che corre ma anche di colore della pancia di una suora andrebbe indagato non l'ho mai visto è perché non si vede mai evidentemente il colore mistero eh sì è quel colore che non metti a fuoco devi dire anche i capelli di una suora volendo però la pancia la pancia ha ancora più dei capelli è vietata praticamente qualcuno parla del verde fastidio che comunque certo e poi azzurri del mare d'estate quando sei in traghetto e prendi l'aria verso la metà delle tue vacanze eh vabbè sì sì questo è molto giapponese come molto peraltro tu guardi il mare e quanti azzurri quanti grigi quanti bianchi è l'azzurro di fine vacanze è proprio un'altra tonalità allora ragazzi un'altra sfida prima di chiudere di che colore è questo pezzo dei Bee Gees colore di lacrime le mie è oro Pinocchio è anche in podcast on demand dove vuoi quando vuoi 18.52 Radio DJ che colore avete dato a questo pezzo io avevo detto oro giallo faccio sentire un messaggio su tutti Pinocchio oggi con questa puntata sui colori mi avete rapita ad ogni modo i Bee Gees per me sono il giallo biondo dei capelli di mia madre negli anni 90 che in una panda nera stropicciata la cantava scorciagora io avevo forse dieci anni e ricordo questa immagine è un colore stupendo è il colore mesh quasi è la bionda nella panda nera ragazzi è un colore meraviglioso io lo cedo cedo la mia sensazione a questa definizione perfetta io ringrazio Laura che una cosa che mi fa molto piacere è che quando viene qua arriva in un modo e va via che è più bella perché sorrido un sacco sì è vero è proprio proprio vero il Giappone a colori è il suo nuovo libro godetevelo perché è un bellissimo regalo proprio è un bel regalo anche da fare agli altri ti apre gli occhi su delle cose c'è una cosa più bella che far aprire gli occhi agli altri niente c'è di più bello grazie ti si vuol bene Laura grazie grazie a voi sono sempre a casa a domani ciao Pinocchio torna domani alle 17 solo su Radio DJ Pinocchio